Filippo Franchini, questa gara per lanciare la raccolta fondi per la Casa di Fausta, raccoltaci un po' di cosa si tratta. È una speriamo bella iniziativa che è nata così un attimo per caso, correndo, perché ci è venuta con mia moglie una mattina di corsa a fine marzo, inizio aprile, e abbiamo cercato di coniugare l'utile al delettevole, visto che siamo un po' disti e sappiamo quanto sia importante correre, quanto effetto aggregante abbia, e abbiamo cercato di lanciare una buona causa. L'idea è quella di un bel progetto che ASEOP sta portando avanti sul territorio per la costruzione di questa palazzina d'accoglienza, che sarà destinata ad accogliere i bambini in cura presso il reparto di oncomatologia pediatrica e di loro familiari. E niente, stiamo cercando di dare un po' di risalto sul territorio a questa iniziativa. E la corsa ci sembrava un buon metodo per tirare insieme un target che è quello dei podisti, che è numeroso, e quello anche dei volontari del nostro territorio. Che risposta vi aspettate? Speriamo buona, col tempo in primis, che è una variabile non da poco, e speriamo che risponda bene la cittadinanza. Per adesso il sentore è buono, insomma, ci aspetteremmo una presenza, speriamo, sui 6-700 persone. Questo sarebbe un ottimo punto di partenza. Servono troppo spesso, molto spesso, queste iniziative di solidarietà per finanziare progetti? Servono, assolutamente servono, perché i costi per imprese di questo tipo sono alti e comunque in questi momenti c'è bisogno di fare fronte comune verso queste iniziative che sono belle. Speriamo di mettere il nostro mattoncino, visto che parliamo di casa di Fausta, quindi di essere capaci di fare qualcosa di buono, così, per tutti.